Questo libro, Collettez Pape di Mare Fiorentini, editor Paolo Ribbenboin, Queen's Papers in Pure and Applied Mathematics, volume 113-2000, Kingston, è una cittadina Kingston, Ontario, Canada. Va bene? Questo libro contiene 40 lavori a stampa, alcuni sono scritti in italiano, alcuni sono scritti in francese e alcuni sono scritti in inglese. Autori di questi articoli sono o di Mare Fiorentini da solo, oppure da Mare Fiorentini in collaborazione con un altro scrittore. L'ultimo lavoro pubblicato in Giappone da Nagoya, l'ultimo lavoro pubblicato in Giappone, è sottoscritto da quattro autori ed è un articolo conclusivo di tutto, diciamo così, una ricerca fatta in tutto il mondo su una problematica molto interessante. Ed è, traduco però, sulla struttura dei moduli di comunologia locale per curve monomiali in P3, scritto da Mare Fiorentini con Bresinski, americano di origine polacca, ebrea, Curtis, americano, Oa vietnamita e Mare Fiorentini, naturalmente italiano. Questi 40 lavori, ce ne sono all'inizio alcuni di carattere generale, ce ne sono praticamente due o tre, che sono leggibili anche da un professore di matematica italiana, non sono di ricerca pura, e sono scritti in italiano. Gli argomenti di questi articoli sono essenzialmente di geometria algebrica e di algebra commutativa. Due, sono abbastanza facili, ce n'è uno scritto in italiano, ce n'è uno invece scritto in inglese che è sempre di cultura scientifica, non di ricerca, però è un articolo un po' complicato, non di facilissima lettura, diciamo. Allora, questi articoli alcuni sono di geometria algebrica, che è, diciamo così, una delle materie principali di cui io mi sono occupato. Va bene? Ci sono poi degli articoli invece che sono di algebra commutativa. Qui io non faccio distinzione tra algebra commutativa e algebra omologica, perché è troppo difficile. Dividiamo geometria algebrica e algebra commutativa, non algebra omologica, perché l'algebra omologica è una cosa venuta da poco, è difficile spiegare che cos'è l'algebra omologica. Mentre invece algebra commutativa significa questo, siccome il soggetto di questi articoli è la teoria degli anelli, quando si utilizzano anelli commutativi, allora si parla di algebra commutativa. Gli anelli, perché un anello si dice commutativo? Perché l'operazione di prodotto in esso, A per B, cioè A per B è uguale a B per A, A per B è uguale a B per A, può commutare. Capisci? Allora tu vedi che c'hai la geometria algebrica, tanto vediamo che cos'è la geometria algebrica, sarebbe bene dire che cos'è la geometria algebrica. Poi che cos'è l'algebra commutativa? Ecco, fermiamoci, non parliamo di algebra omologica perché è una teoria troppo recente, introdurla occorrebbe fare delle riferimenti abbastanza complicati.